Diego, però, sei arrivato un po' in ritardo Guarda dove sono, Diego Guarda dove sono Non lo so, volevo ricordarti di questo Excuse me Excuse me Pensa a non trovare per fare content No, no, no No, no, difendimi Scusa Wance, sei davvero morto Per la mia finisher Ma che c***o ne sono? Immagli hittato l'altra parte Davvero un po' E' un lutto che ne dici avuto dopo questa frase Welcome to the Once More I Said Show Vi ha già pulito quella dopo, raga Sto dove sono Bravo Vigit, ogni tanto Otto, nove, di tanto riesci a fare le cose Qua bene Guardiano a terra! Qua non spawnano la gente, ah no, l'hai già pulito, scusa L'hai detto, l'hai detto Beh, l'ha dato, rieccoci, ci rispettiamo Non ti ascolto mai io, Vigit, mi dispiace Salve di poter Oh, sopra oltre No, ok forse, mi salvo, nice Questa classe è Top Stesando il titano e il titano è Top a crescere Dopo che uso il cacciatore per saltare Liberazione Più veloce, più veloce, ok Fassa, fassa, fassa Esatto Mi sono perso? Ah di qua E poi con pappa che? Mi si è affrizzata il gioco L'ho visto per scomparire Te l'hai visto scomparire? Io l'ho visto Atterrarmi in testa Bastano VATALO BATALO Mi chiede la Resident Evil 4, raga I zombie... BORCA Guarda, guarda Vigit Guarda Vigit Guarda Vigit Guarda Vigit Bianco è 3 3 E 1 Nero sinistra Nero centro Nero destra Non puoi usare il mio quarto cavaliere Bianco destra Oh Bianco centro Bianco sinistra No Vai Frank Vai Frank Vigit i polpi No Frank No No Mamma mia MANTELLO Let's go E' uscito E' uscito E' uscito E quando è che mi fa ridere Vigit E' Che di solito era un mantello Basta mantello E' vero E' vero L'ultima puntata era così Infatti io mi ero cazzato con una mission E' che dopo ho solo mantelli Fatti di servire veramente Non riesco mai a trovarlo E' sempre così WANS Eccomi Ehi Tanico Abbiamo 3 titania Oh no 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 Sinistra WANS Siamo sul riservo Adesso arrivano i riders Arrivano i riders Oh mio dio zio WANS WANS A sinistra 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 E dai volo in fondo 3 2 1 No Ho missato Ma non ci credo Mi sono schiantato sul palese 2 3 2 1 Vai Eh Ah cazzo sono tutto tardi Adesso mi rifiace la pallina Per favore Puoi anche entrare se vuoi Poi ce la fai Ok 9 secondi L'altra pallina A posto Non lo so dove è andata a finire L'altra pallina è andata di qua È andata tipo lì Sì nella stanzetta Ok Crediamo in te Puoi scendere qua sotto Qua sotto a destra Sì Dove Ho già usato Scendo a wikiz E' il numero io arrivo No Oh no Nice Grande wikiz Sì 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 Scusa No è che l'avevo L'avevo colpita ed era No problem Allora Ehm Questo qua in basso a destra Ok 3 2 1 Ok Nice Tante carie cose Cari delorgi GG 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 Erdita nooo Qua come solito in realtà Devo Veraccia Il pompa per te Si troppa la prossima volta Anche a sto giro E anche questa volta Troppo il pompa la prossima volta Scompare sta la cassa Se l'apo No 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 Prendiamo pure C'è scompare ma ti importa tanto Ci vuole sì qualche minuto Sì sì Ma di solito faccio il boss Wapare personaggi Due volte quindi E quando torni è ancora lì Ok What? What? Ho preso lo skiff Ho preso lo skiff Ho preso lo skiff Dove? Dove? Immagina Che traffico c'è Ho su Sua crypto Ma che è? La scuola guida Comunque non mi ha insegnato Come si faccia La cosa più importante Esatto C'è la cosa più importante Speriamo di no però Insomma Cosa ti serve Cosa ti serve Sapere la precedenza Come accederà Quando puoi fare direttamente L'incidente Però a quel punto Se stai fare Se stai fare la constatazione A quel punto sei a posto Sì Non rispetti i codici della strada Però è la constatazione Per il salto Il cacciatore è il mio No però Che? C'è quello che dovete sopportare voi ragazzi È incredibile È dura lo so Lo so giusto Qualcuno deve pur farlo Dai E sono Tutte due alte Vado a destra alto Uno No ci vado io A sinistra c'è qualcuno? Tre Due Uno No C'è bisogno di un cambio Zidim Eh Hai detto basse? Sì Dado Torna a giocare Per favore Sto giocando No Intendo fare Soppressore Ah Dato che Vuole farmi giocare Non capisco Fk 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 ah ce lo vedo 25 euro al mese come ti vuoi i soldi di twitch? ancor? dove vado? soldi twitch a destra l'altra no, no, mi ha rubato mi ha rubato veramente anche da soppressore tutte e due a destra dopo la distante vado in alto io io vado basso destra vengo a prendermi il loot mi sembra il loot siiii fuck me loot ho fatto in tempo a stannare immagina let's go raga, c'è un problema ho la pallina in mano un muoio di radiazioni ma è fantastico ha sfasato di una pallina la città verrà completamente devastata ce ne siamo mangiato a una waka 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 il destino dell'umanità è nelle vostre attività che abbiamo mai fatto quella sarebbe stata bellissima però mantello ho fatto la non ho troppato anche io ho un lungo non 7 un altro martello 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 da qua non penso ti possa troppare il martello spezza sole no, si può, si può esiste ah, lo spezza sole ti può troppare la sottoclasse? esatto si, me l'ha troppata davvero aspetta, puoi troppare il marchio esotico del titano? l'arte è fatto di questa stagione si, sto piangendo così, ne hai due sto mettendo altre modifiche per il pompa adesso sono esattamente sicura di... come? sono andato di da un seccone così ma non c'è ancora Frank ragazzi ma che cazzo fate? ah, dunque perché l'ha attivato? eh, che ci hai dato? va bene Frank! come è che l'ha attivato se non ti sei ancora? eh 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 ma cazzo è fatto l'ha attivato ci avevo davanti il dado che picchiava a Diego sono sicuro che non poteva essere nessuno di Thor 2 e Frank non c'è come ero su Instagram? quindi sono... non sono appena ricordato una cosa, no? in tutto ciò kinda sassi non si, non si, non si, non si io l'ho fatto ah, non si, non ci stavo qui dentro ma è startate arrivo eh ma non c'è nulla non c'è nulla non c'è nulla non c'è credo oh sono nati oh yes l'ho detto due, si 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 devo lì scendere a uno? che ho le radiazioni alte ok grazie nooo l'ha fatto l'ha fatto davvero l'ha fatto davvero l'ha fatto veramente l'ho visto l'ho fatto veramente ioink dai ma questa è una ah vai a due che se non hai radiazioni ok ok cioè non cambia molto ma ma no oh quindi vado a due? si vai dove vuoi tanto sono lì no merda non ti vedo un secondo no fuck sake arriva arriva ah va bene va bene va bene mi sono fatto riprendere anch'io almeno vai ok oh ok come ho detto ehm no rediazioni ad otto rediazioni ad otto rediazioni ad nove 9 uh ok ne prendo una io I guess ma forse io non ho rest forse da dove riesci a far due dimmi che avete tu nice le rest posso farle io però la pallina è meglio io io ok dovrei averne una anch'io ok o il contrario si a posto easy era dips questo si chiaramente easy è stato facilissimo nessun problema facile eh facile e veloce semplice e veloce eh questo è un gramma leggendario nooo ho usato un lanciarazzo immagino nooo primo e ultimo eh piccolino tannix ci sta tutti i passi va bene no 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 ma ero qua ero da voi ero da voi ero da voi cioè ma ti facciamo da qui l'onore cioè Frank è più avanti di me ma che vuol dire ehm doppio shot ok qualcuno vuole riesce a rentarmi io non ce l'ho no guarda così va niente è meno stile let's gooo troppo ho avuto pistola d'oro però almeno ecco ce l'avete vostro e vostro si però e anche te tiri missione quando non c'è la bolla del divino nooo cioè la prossima volta tirano quando c'è la bolla del divino eh ragione ragione questa volta sarò un po' più veloce devi giocare con due personaggi con due pc il dual pc setup per fare il divinity e il missione e il missione potrebbe farlo col piede esatto parlo col divinity eh beh sì perchè ho fatto qualsiasi cosa? ho detto del piede zio giub 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 ho fatto anche oh finalmente posso parlare ma potevi parlare con Ezio potevi parlare anche prima immaginiamo abbiamo sbloccato Ezio con il ride è la mia madre ah ok è tipo le npc segretissime si esatto fai il ride e sblocchi Ezio ma è più raro dell'occhio del domani sappiamo che è la prima volta che ci capita eh sì bisogna fare 300 clear tra tutti e non devi parlare con rosario cala gm la rampa che ti porta in posti magici in cambio della tua anima vcutes vs varsat varsat win perfect mi piace davvero questo canale spero che cresca in fretta volenti o non volenti ma non è lui per favore non andando questo qua adesso Ezio per favore non andando questo qua aspetta che lo guardo eh cioè niente di schien però si schienzai non è male non è male non è male utilizzabile cioè è andato avanti siamo andati avanti perché erano tutti dentro lo stanzino quindi se sei uscito tu va avanti ma non ce l'hai detto non hai detto che stai uscendo però era un attimo sovra pensiero sorry secondo me l'ha detto ma nessuno ha detto no 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 abbiamo il vod e non l'ha detto abbiamo il vod e non l'ha detto chi ha il vod? chi ce l'ha il vod? non sai che vuole non sai che vuole non sai che vuole